cari amiche ed amici qui a un ancora una volta il vostro sentencian ero indeciso da più di mezz'ora se fare o non fare un live streaming in youtube ero indeciso perché non mi andava di utilizzare il cellulare e allora accendere il computer collegare la camera vecchia del 99 fare un live prepararmi perché non sto ben vestito e allora detto no oggi sono pigro alle 17 39 non mi va di fare un live in youtube anche perché ultimamente i miei live li hanno visti massimo un centinaio di volte nessuno in chat e quindi oggi che è venerdì pomeriggio mi voglio rilassare ultimamente ho fatto meno video di quanti ne abbia fatti l'ultimo messe perché cerco di concentrarmi su temi particolari invece di esprimermi in libertà sulle cose che mi vengono in mente comunque ho fatto nell'ultimo mese negli ultimi due mesi dei video che si sono visti anche più di mille volte chissà con il tempo si vedranno anche molte di più la mia meta in youtube sarebbe quella di recuperare la monetizzazione perché mi sto avvicinando ai 100 dollari però ciò appena 2600 ore di views l'ultimo anno anzi dal vento dal 20 febbraio 2018 che mi hanno tolto la monetizzazione ho fatto più views solamente che sono le views del 2018 2600 prima del 20 febbraio 2018 cioè prima del primo gennaio avevo fatto molte più visualizzazioni adesso cercherò di parlarvi di cose più interessanti perché questo video poi lo condividerò in facebook un mio canale secondo canale di youtube dove conservo tutti gli episodi di sprecher che ho dovuto cancellare da sprecher perché hanno ridotto il numero di ore disponibili gratuitamente e anche il tempo di registrazione quindi di una volta registravo dal cellulare mezz'ora adesso sono 15 minuti me ne sono rimasti 12 e quindi poi lo condividerò dicevo in youtube facebook e non so se in un altro social media forse utilizzerò la pista audio per condividerlo anche in instagram allora volevo parlare di alcuni temi di attualità visto che il vantaggio di usare questa applicazione e che si può essere creativi e allo stesso tempo non si ha quella pressione di conseguire us conseguire like avere commentari dove rispondere commentari perché purtroppo a me i miei radio programma nessuno li commenta quindi sprecher da una certa libertà paradossalmente rispetto a youtube perché tanto non ti viene nulla invece una volta che inizia a guadagnare almeno 150 dollari in youtube c'è la speranza che dici vabbè adesso diventano youtuber ma sul serio e invece poi vedi che ti tolgono visualizzazioni dai video ti tolgono i like ti tolgono i commenti perché la loro idea è sempre stata che se ti hanno visto da molti canali che per un qualche motivo li hanno clausurati li hanno censurati li hanno sospesi perché hanno infranto le regole di youtube o perché erano dei profili fake allora loro dicono sì il tuo video l'hanno visto centomila volte d'accordo però togliamo le visualizzazioni che hanno prodotto certi canali perché i proprietari li hanno chiuso perché hanno infranto per tre volte le regole di youtube e li hanno sospeso li hanno censurati li hanno chiusi questo per me è ingiusto perché intanto loro col video hanno monetizzato centomila views e poi a te te ne riconoscono 90.000 perché c'è stata un'epurazione di canali di like io so che se raggiungi il milione di iscritti per esempio ti devono dare mille dollari una cosa del genere però so anche di persone che stanno per raggiungere il milione di iscritti e gliene hanno tolti una buona parte perché dicevano che erano canali duplicati tarocati e non è giusto una volta che ti hanno riconosciuto centomila views in un video una volta che hai raggiunto un milione di visualizzazioni del canale una volta che hai raggiunto un milione di iscritti poi anche se tutto quello secondo loro diminuisce ti devono dare il premio quel quel quadretto con il simbolo di youtube ti devono dare i soldi non possono fare gli ignori e dire perché d'altra parte a volte neanche considerano tutte le visualizzazioni prodotte da persone che non sono iscritte in youtube per esempio so di alcuni casi in nord america dove ci sono dei cyber dei luoghi con computers pubblici più di 5.000 10.000 computers in un cyber se tutti guardassero lo stesso video paradossalmente in 10.000 computers perché è un video virale ebbene youtube mi riconosce poche visualizzazioni perché l'ip sarebbe lo stesso per tutte le macchine per tutti i computer capito e quindi per me questo è un qualche cosa un qualche cosa veramente brutto che comunque grazie di seguirmi e adesso passiamo a un altro argomento cari amiche ed amici per il momento lasciate vuota non so in quanti mi seguite dal vivo ma volevo parlare adesso nella seconda metà del video del programma voglio dire volevo dire qua mi dice suggerimento collega le cuffie per portare a ascoltare mentre il microfono è accesso o spegne il microfono non so che significa speriamo che registri ma volevo parlare delle lezioni all'italiana delle lezioni italiane che sono venute all'italiana e quindi come dire speriamo che questa parte del programma si registri perché mi è apparsa una scritta microfono suggerimento collega le cuffie per ascoltare mentre il microfono è accesso o spegne il microfono non so forse si riferiva agli effetti speciali allora dicevo le lezioni all'italiana sono state queste lezioni perché ancora non sono riusciti a capire chi ha vinto e chi ha perso non si sa è un mistero è un mistero sapere chi ha vinto e chi ha perso ci sono passati ma vi rendete conto che è passato non so se uno o due mesi adesso sta passando quasi due mesi da quando ci sono state le elezioni e ancora ancora non abbiamo un governo vabbè per quello che serve avere un governo in italia lo so voi siete cinici però se pensate così io sono un po scettico ma voi siete cinici mi dispiace comunque è anche vero che non è che la cosa si limita a per quello che serve avere un nuovo governo possiamo anche andare avanti con questa incertezza perché molte decisioni non si prendono e poi si ci si avvita di nuovo nello stesso circolo vizioso cioè si farà un governo tecnico con vecchi politici perché anche questi nuovi si sono rivellati vecchi per fare una nuova legge elettorale come è successo nel passato il governo tecnico di Monti non so se doveva essere di due anni è stato allungato ma poi è arrivato anche mi sembra l'ETA che non l'ha votato nessuno si sono succeduti in tanti in Bertini in Bersani poi è venuto Renzi tutti a lamentarsi nessuno l'ha votato e dalla fine nessun governo tecnico o no che si fosse chiamato o messo da loro ha discusso veramente la legge elettorale ma ha fatto un altro pasticcio elettorale dal quale sono uscite queste votazioni il risultato di queste elezioni quindi voglio dire a che è servito fare questi governi tecnici se le leggi elettorali che hanno fatto hanno fatto uscire dalle elezioni politiche questo nuovo risultato che francamente era atteso allora per dirla in breve a voi che mi state seguendo dal vivo che magari avrete altro da fare ci stanno continuando a governare i politici uscenti perché non si sa chi deve entrare a Montecitorio nel Parlamento deputati senatori parlamentari sottosegretari si deve rimpastare tutto allora ci sono queste trattative fra il colle e il Quirinale le istituzioni e i palazzi di potere la chiesa i massoni eccetera eccetera però Piazzale Barberini però ancora ci governano i vecchi politici perché se non c'è un governo entrante non si può rimanere in anarchia allora ci sono ancora i vecchi parlamentari e i vecchi senatori in che insieme ai nuovi stanno tentando di rimpastare tutto e ci sono delle negoziazioni e un mercato delle vacche questo perché si va all'ingrosso cioè veramente il governo che uscirà uscirà aleatoriamente da accordi presi tra le parti politiche nonostante noi abbiamo espresso fermamente la nostra decisione attraverso il voto e il voto della gente sembra che non serve a niente come sempre come con i referendum che non raggiungono il quorum perché sempre meno italiani votano purtroppo ma sempre più italiani si stanno rendendo conto che comunque anche votando votare non serve a niente perché certo se un partito avesse avuto la maggioranza assoluta cioè il 50% dei voti più uno come è successo varie volte nel passato magari si sarebbe potuto avere un governo finalmente però nel passato è successo che nessun partito raggiungeva in realtà la maggioranza assoluta allora che si sono inventati perché questo è successo anche prima e durante il pentapartito che è stato creato proprio per raggirare la mancanza di una maggioranza che permettesse governare nell'Italia del post-Tancentopoli si è voluto fare un bipolarismo politico però non si sono potuti creare due partiti forti allora si sono creati due poli uno di centrodestra e uno di centrosinistra ogni volta che vinceva un polo di centrodestra o di centrosinistra poi cadeva perché gli toglievano la fiducia agli alleati interni più che i nemici esterni come è successo a Prodi e a Berlusconi che si sono alternati per quasi vent'anni con ogni tanto periodi di governi tecnici quindi qui vi lascio, questi sono stati i temi del giorno commentatemi lì per farmi sapere se volete che io ne continui a parlare qui su Sprecher e se potete condividete questa trasmissione e guardatemi in Youtube, io sono Santenchan mi aiuterete molto, sono disoccupato, ciao!